La vicinanza della Chiesa al popolo egiziano nel periodo di transizione politica è stato uno dei temi dell'udienza di Papa Francesco con il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto Abdel Fattah al-Sisi. Nel corso dell'incontro ci si è soffermati sulla situazione del paese, esprimendo l'auspicio che nel quadro delle garanzie sancite dalla nuova Costituzione, nell'ambito della tutela dei diritti umani e della libertà religiosa, si possa rafforzare la coesistenza pacifica fra tutte le componenti della società e continuare nel cammino del dialogo interreligioso. Successivamente sono stati passati in rassegna alcuni temi di comune interesse, con particolare riferimento al ruolo del paese nella promozione della pace e della stabilità nel Medio Oriente e nel Nord Africa. A riguardo è stato ribadito che la via del dialogo e del negoziato è l'unica opzione per porre fine ai conflitti e alle violenze che mettono in pericolo le popolazioni inermi e causano la perdita di vite umane.